Ciao a tutti, porca di quella puttana, mi sto cagando sotto perché praticamente sto tornando dal lavoro e sono quasi le 11, sono nel treno da solo, l'ho anche aspettato, qua è pieno di ubriachi, di gente che urla, cazzo ovviamente non in tedesco ma c'è arabo tipo, spero che non mi vengano per la pelle, cazzo, mi sto fottendo di paura se vedete questo video vuol dire che sono sopravvissuta, qua è pazzesco, è incredibile, cioè Colonia mi cago sotto non vedo l'ora di riuscire a guidare meglio la macchina, non dover fare più questa vita di merda, Dio mio spero solo che non mi facciano pezzettini, dopo tutto quello che ho visto ho sentito, cosa devo far, ci sono una cattiva ragazza vado ovunque, soprattutto vado ovunque ma ho pure il coltello in tasca perché qua non so cazzo fare, non so cosa succede eh sì, fai il Politecnico di Torino, Ingegneria, ti aprirà tutte le porte, soprattutto quelle dell'inferno le chiavi speciali, ha il passepartout, come si diceva, il passepartout, ok ciao a tutti bacio e speriamo che sopravvivo, speriamo che sopravviverò